L'assembramento era in questa zona davanti alla musica, un pochino qua diciamo di fronte al bar per prendere le bevute e nel piazzale esterno. Alcuni clienti senza mascherine ed un vero e proprio assembramento, questo quanto trovato dai carabinieri sabato notte e così per un locale a rettino è scattata la multa e la chiusura per cinque giorni. Per il resto hanno constatato che veniva chiesto il green pass anche se le persone rimanevano all'esterno, tutto quanto, è solo questo assembramento, si tratta di 100-150 persone. Il locale di via Calamandrei lo scorso sabato stava ospitando la serata uainotta dell'associazione Archie Gay. E' sfuggita di mano perché noi normalmente non raggiungiamo questi numeri, abbiamo dato la possibilità a questa associazione che non trovava dove festeggiare da due anni e abbiamo dato la possibilità di riunirsi qui. Ma la cena era stata contenuta perché diciamo siamo riusciti a fare un certo numero di tavoli e poi basta. Il dopo cena è sfuggito, è sfuggito perché nonostante le transenne tutto è arrivata più gente di quello che preventivavamo. Attorno alla mezzanotte l'intervento dei carabinieri è la conseguente chiusura di cinque giorni, il massimo previsto. Purtroppo l'assembramento c'era quindi è inutile stare a replicare su questo, quello che contesto io è l'applicazione to cure dei cinque giorni a tutti per non fare differenze. Ma la differenza c'è perché secondo me se c'è un assembramento di 100 persone è un conto, se c'è un assembramento di 500 è un altro. Quindi la gravità secondo me è diversa, se uno ha fino a cinque giorni vuol dire che può discernere se applicare o meno. In più cinque giorni nostri sono cinque giorni tutti lavorativi, cinque giorni a un locale che fa solo il fine settimana non influiscono niente. Sempre sabato notte i carabinieri sono tornati anche in un altro locale del divertimento notturno, il dolce verde di Castiglion Fibocchi a cui solamente due settimane fa era toccata la stessa sorte, ossia i cinque giorni di stop e la multa. Questa volta non è stata riscontrata nessuna irregolarità.